è qua quanta vita ha ancora non è possibile come fa ad averne come fa ad averne ancora perché non muore devi morire fuori ora ti prego muori non c'è più tempo non c'è più tempo si ma non c'è più tempo c'è deve morire adesso occhio di ora sciotta ma non mi interessa deve morire fagli danno madonna santissima ma vaffanculo vaffanculo zoppicava cioè l'abbiamo devastato e comunque non è bastato è impossibile allora ragazzi io provo a fare un tentativo in solo vedo se in solo riusciamo a distruggere sto cazzo di ner gigante perché veramente quando arrivi così vicino sei lì lì e poi riesci ad annusare la preda l'uccisione e poi invece no finisce il tempo tutte le volte non è giusto non è giusto si può fare si può fare non è impossibile non è impossibile è impossibile impossibile siamo qui da quattro ore è arrivato il momento di farcela basta basta scuse concentrati fissate l'obiettivo guardatelo in faccia dritto negli occhi e ditegli ner gigante è arrivata la tua ora è arrivata la tua ora andiamo forza 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 carne per l'attacco e poi proviamoci buttiamoci l'avventura polveri stavolta non me ne dimentico ok abbiamo i nostri bonus voglio provare a fare di nuovo con l'imboscata con le bombe e tutto il resto quindi se dovessi riuscire ho pizzato due bombe se riuscissi a mettere anche qualche micetta non sarebbe male aiuto ok ok direi che sia abbastanza esploso un buon inizio un buon inizio non c'è male ai 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 questa non ci voleva sono stato un po' troppo ho voluto un po' troppo ho usato un po' troppo ok mi è andata di culo mi è andata di culo devo riuscire a fare esplodere questa micetta assolutamente perfetto 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 ho ancora le stichi 1 molto bene andiamo di stichi ancora ancora è fermo ho paura che adesso provi a scappare però quindi flash ok come ha insegnato il buon Alberto passiamo alle slicing un altro flash un altro flash mi città e qua e qua no 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 bravo ok adesso scapperà sicuramente giusto quindi una flash ci vuol per forza no ok no vado a usare le pillone ok flash partenza col botto ragazzi partenza col botto per niente male per niente male no sono la gittata manca la gittata ahia micetta no no questa non è micetta questa è una micetta è fermo ok dai che non attacchi ha la micetta sotto di lui perfetta eccola un altro bel 40 di danno così per mettere le mani avanti no 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 vorrei è possibile provare a paralizzarlo adesso sta scappando ok ci sta devo usare di nuovo polveri tutte cose tutte le cose micetta micetta perfetto poi passiamo dall'altra parte che è un pochino più ampia aspetta questa aiaiaia tanto dolore fisico e morale soprattutto fisico perché proviamo paralisi se riuscissi a paralizzarlo sarebbe una delle cose più belle proviamo con i coltellini eccolo 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 perfetto non so non so più quali usare fulmine immagino fulmine i danni non sono male no 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 non essere gridi non essere gridi ok micetta no sta per scappare no ok potrebbe andare molto peggio adesso scappa ok comprensibile sta zoppicando ok sarebbe un buon momento per andare all'accampamento prendere si 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 facciamo così facciamo così ok 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 prendiamo munizioni bombe cose dai facciamo così facciamo così facciamo così dagli dagliene dagliene dorme dorme ok è la nostra occasione non devo sbagliare micetta ah no ho più micetta e poi una di queste qua e adesso via no ho sbagliato ma perché sta ancora bene perché stai ancora bene perché stai ancora bene giurati no no non così non così perché non riesco no siamo così vicini siamo così vicini non riesco a curarmi non riesco a curarmi non riesco a curarmi cazzo dai mancano 5 minuti mancano 5 minuti posso tornare subito là torno subito là c'era una bomba che potevo prendere ma non ne vale la pena mi conviene andare subito là scendere qua e poi di qua e siamo subito qua dai corri eeeh slicing assolutamente bastardo no 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 siamo di nuovo la capo siamo di nuovo la capo siamo in una pessima posizione mi devo mi devo spostare da qua mi devo spostare da qua perché fai passare fai passare non ho usato neanche le polveri non ho usato neanche le polveri non ho usato neanche le polveri stavolta ahhh ok c'è ancora tempo quindi cerchiamo di fare le cose con criterio e di ragionarci le pillole servono sicuramente servono queste le prendiamo questa la prendiamo perché non si sa mai queste si non so neanche perché le ho prese andiamo si è durmentato un'altra volta ok potrebbe essere un'ottima occasione del river non stavo considerando ciò non pensavo che si potesse durmentare due volte muoviti magari la stamina la recuperi un'altra volta due micetta e devo usare l'altra bomba tempo è quasi finito ora va o la spacca si si e andiamo e andiamo e andiamo ner gigante e andiamo ragazzi mio dio ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ed è stato tutto merito mio questo è skill questa skill incredibile 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 con quasi un minuto di scarto e potevo fare molto meglio se non tiltavo verso la fine si ragazzi si ragazzi che coordinazione se andavamo proprio il team d'un side cosa cazzo ce l'ho io questa cioè no è quella piccola puttana no no ho avviato tutto fatta mettere grazie 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 Grazie.